Sono in arrivo in questi giorni, nelle case dei contribuenti favaresi, le bollette dell'Atari, ovvero la nuova tassa sui rifiuti. Nulla di strano se non fosse altro che la bolletta arriva già scaduta. Infatti il termine ultimo per pagarla era ieri, 20 luglio. Alcuni cittadini hanno ricevuto giorni addietro il modulo da pagare e altri lo hanno ricevuto oggi, con la possibilità di pagarlo senza nessuna maggiorazione. Altri ancora lo devono ricevere. Colore quali non hanno ancora ricevuto la bolletta saranno costretti a pagare la mora e certamente non per colpa loro. Diversi invatti cittadini favaresi che hanno lamentato questa illogicità alla nostra redazione. Da domani quindi scattano le sanzioni per i ritardatari che probabilmente saranno molti, visto che in città la bolletta pare essere arrivata solo in alcune zone.